Ciao a tutti ed eccoci qui con il terzo capitolo di addominali scolpiti in 6 minuti. Partiamo con un bel crancio al libretto, ottimo per il nostro retto dell'addome, stimolando in più coordinazione e lavoro delle gambe. E attenzione a mantenere sempre le ginocchia un pochino flesse per non forzare la schiena. Passiamo adesso al plank con salto apri chiudire gambe, ottimo per sviluppare coordinazione e migliorare la tecnica del classico plank fatto nel capitolo precedente. Potenziato anche il lavoro sul plank a braccia tese facendo dei mountain climbers, quindi esecuzione molto tecnica portando prima un ginocchio poi l'altro al petto senza fare salti perché poi quelli li faremo nel capitolo successivo. Mi raccomando, circuito da 6 minuti, non c'è intervallo, almeno che non se ne abbia stretto bisogno. Il massimo concesso è 20 secondi. Buon allenamento! Iscriviti al canale VKT FitnesTV e se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!